Wittgenstein è probabilmente l'icona del filosofo contemporaneo, il filosofo novecentesco più assoluto, nel senso che vediamo innanzitutto queste sue immagini con questo sguardo spiritato, questa eleganza tra l'inglese e il viennese, questa vita non dico avventurosa, però sicuramente come romanzesca, nel senso che lui nasce in questa grandissima famiglia, poi va a Cambridge, conosce Russell, diventa prigioniero a Cassino combattendo nella prima guerra mondiale e durante la prigionia Cassino scrive il suo capolavoro filosofico della prima parte del suo pensiero e cioè il Tractatus Logico-Filosoficus e poi dopo vicende che comprendono l'essere stato giardiniere in un convento di frati, essere stato maestro elementare in bassa Austria, essere stato architetto per la sorella, ritorna a Cambridge e comincia ad elaborare un altro grande libro che uscirà solo dopo la sua morte in forma di appunti che contraddice il primo libro. Quindi questa immagine, come dire, della genialità tormentata e di questa sensibilità che unisce insieme appunto l'idea della Vienna della crisi con il mondo della filosofia analitica anglosassone. Wittgenstein era indubbiamente consapevole di questa sua unicità, le sue bizzarrie erano ben note e come dire, non solo ha dato uno stile filosofico al mondo del Novecento, nel senso che buona parte della filosofia del linguaggio del Novecento ha fatto i conti con le tesi di Wittgenstein, ma appunto questa sorta di immagini ideali di che cosa deve essere un filosofo, per esempio un filosofo è quello che sul letto di morte come accadde a Wittgenstein disse, dite loro che ho avuto una vita meravigliosa, come pensando a questa posterità a cui bisogna dire che la vita del filosofo è meravigliosa.